Siamo con Maurizio Maggiarotti della DoDesign, amministratore delegato, un altro beauty bimota, un altro amico storico del marchio bimota, quindi parliamo di tutto il merchandising connesso all'abbigliamento after race per il marchio della casa di Rimini. Esattamente, siamo gli amici di bimota, abbiamo cominciato questa collaborazione, saremo licenziatari del brand bimota e di tutto l'abbigliamento lifestyle per tutto il mondo e stiamo studiando questa nuova linea che sarà pronta per settembre, una linea molto sobria inizialmente, una linea molto curata nei minimi dettagli, come il brand bimota vuole e vogliamo proprio allinearci a quello che è un fil rouge che collega tutti gli amici di bimota e dobbiamo essere l'high end dell'abbigliamento, per cui abbiamo guardato molti dettagli, i tessuti particolari, la fattura. Come ti dicevo saremo licenziatari, distribuiremo questo prodotto sia ai concessionari e ai distributori nel mondo, saremo anche distributori sul nostro sito web www.dodesign.it e speriamo sicuramente di fare un ottimo lavoro, in particolar modo cercheremo di curare il rapporto che fino ad oggi non era stato sviluppato molto con tutti i fan club di bimota nel mondo, speriamo di coinvolgere un gran numero di persone per questo rilancio di questo importantissimo brand italiano che secondo me merita un posto in cima alla classifica dell'eccellenza italiana, assolutamente. Sicuramente, e bimota chiaramente ringrazia per questa partecipazione e per anche voi aver contribuito a rendere questo evento BU un punto di riferimento dell'anno per tutti i fan della casa di Rimini. Ti ringrazio, è stato un piacere anche per noi, è un piacere collaborare con una casa costruttice come bimota, un'eccellenza italiana, assolutamente. Grazie ancora. Grazie a tutti.